Eccoci qua, ci vediamo al teatro l'ottotota, il 20 dicembre, tutto il periodo di Natalizio, con Angelo Di Gennaro, con una commedia divertente! Uè, 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 che ti faccio fare questa maniera? Ci vediamo con Angelo Di Gennaro! Allora io non so nessunque, non c'ha capito! E mi hai fatto finire parlare! Ho finito, Matteo Bruttovizio! Stavo dicendo con Oscar Di Maio, Angelo Di Gennaro! Uè, 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 ma ti mi ci d'accordo? E a me io non ci sono! E a Alessandro Borrelli? E a me io ho fatto proprio le famiglie chissà! Mettiamoci d'accordo! Poche parole, secondo me il calcio, mettiamci d'accordo e ci si fa timma! Benissimo! Ma insomma, ma io sono qua a spattare, ma quando sei spattato a giù? Ma io sono registrata in compagnia, io sono registrata con manicomi, io bello così! Hai ragione, tu sei? Io sono il regista! Uuuh, ma non mi piace! Ci vediamo al teatro l'ottotota! Mettiamoci d'accordo e ci si fa timma! Ehi, Angelo Di Gennaro, c'è stato, Angelo Di Gennaro! Buonan colpa da Angelo Di Gennaro! Questa non è bella niente